Quali sono le novità della ottava edizione del progetto media? Garantire ai ragazzi un percorso di prevenzione, di salute, di sicurezza e con la collaborazione sempre più attiva dei docenti, dei familiari che man mano passano gli anni trovano nel progetto proprio l'attuazione di quella che è appunto la nostra mission. Noi grazie anche alla famiglia Mastromauro, la Granoro, la partecipazione dei docenti cerchiamo di farlo, ma diciamo che la partecipazione c'è e cerchiamo di farla diventare sempre più attiva e sempre maggiore. Che cosa ha fatto la Granoro per questo progetto? Come tutti gli anni il progetto prevede tutta una fase in cui c'è il grande contributo dell'associazione e dei medici coinvolti che visitano i ragazzi delle scuole medie e dall'altro da parte nostra c'è sempre questo momento in cui noi doniamo a questa associazione e all'ospedale gli strumenti di cui loro hanno bisogno. Quest'anno hanno richiesto due defibrillatori che saranno a disposizione fra l'associazione ma in armonia con l'ospedale e con le esigenze dell'ospedale e quindi noi abbiamo aderito a questa loro necessità, a questa loro richiesta. Questo rientra un po' in quella che è la nostra filosofia in quello che ci hanno trasmesso i nostri genitori e i valori in cui io e mia sorella crediamo che è quello di dare quando è possibile, se è possibile una mano lì dove c'è bisogno e necessità. Con queste donazioni noi in realtà dotiamo l'associazione e l'ospedale di strumentazioni che servono per la comunità e per il bene di tutti e questo è l'obiettivo finale. È incomiabile il lavoro che fanno tutti i medici per questo progetto perché loro sensibilizzano i ragazzi e le famiglie proprio sull'argomento della prevenzione e purtroppo la prevenzione trova poi questo incoccia in questa difficoltà del pubblico. Io mi auguro che il pubblico non smetta mai di crescere perché è l'unica maniera in cui la sanità può essere vicino a chiunque bisogna lottare affinché il pubblico non diventi privato e affinché funzioni meglio perché non vorrei che poi questo cattivo funzionamento diventi l'alibi per aprire la strada alle assicurazioni sanitarie e alla sanità privata. Grazie a tutti.